Chiaramente sono contento, sono molto emozionato, cosciente della responsabilità che mi attende. Il mio primo pensiero va ai consiglieri della mia lista, che ringrazio tutti quanti, ai candidati consiglieri, che ringrazio veramente profondamente, perché mi hanno dato veramente insieme naturalmente a tutti i cittadini di Atri, ma loro hanno contribuito molto a farmi fare il sindaco della città più bella del mondo. Tra i miei impegni ci sarà quello proprio di riportare i giovani alla politica e di ridare, spero di riportare nella gente la fiducia verso la politica. In molti avete parlato, insomma, giustamente, delle tante problematicità che ha questa cittadina, ma qual è il problema principale? Guardi, il primo problema è sicuramente il lavoro, perché noi dobbiamo restituire la serenità alle famiglie e ai giovani del nostro territorio. Per quanto riguarda poi, insomma, gli altri problemi di Atri, Atri ha delle grandissime energie e ha delle grandissime forze, che saranno, che io cercherò, ecco, di far esprimere al massimo. Un altro problema di Atri, io credo che sia, tra l'altro, la posizione di Atri. La posizione di Atri è un grande punto di forza, ma paradossalmente è anche un grande punto di debolezza. Dobbiamo far cercare di percepire, soprattutto sulle località della costa, Atri per quella che è, perché Atri purtroppo è percepita male.